Presidente Valentina Maio, la prima risposta è stata incoraggiante, oggi tanta gente in sede di conferenza stampa, tanti potenziali abbonati, insomma la Virtus si prepara nel migliore dei modi anche per questa quarta annata di Serie B. Eh beh sì, è la classe, iscriviti alla quarta B, quindi no, i tifosi ci sono sempre, i fedelissimi ci stanno sempre vicino in ogni occasione, quindi questo è un ringraziamento particolare e vorremmo spingere anche altri a far parte di questo progetto. E poi sui progetti e tante sottolineature sul sociale che non fanno mai male, anzi fanno molto bene. Eh beh fanno bene, fanno bene all'essere umano, gratificano ed sono cose importanti. Presidente che Virtus ci aspettiamo per il prossimo anno? Beh è ancora presto per poterne parlare, diciamo che gli addetti ai lavori stanno iniziando già da prima a lavorare, però adesso ci siamo seduti, abbiamo parlato, abbiamo colloquiato, adesso stiamo buttando giù qualche nome e speriamo di fare una rosa buona. Si può parlare subito di salvezza già dal mese di giugno? Ma non parlare di obiettivi, è logico che io come presidente dico questo, ma poi in corso d'opera staremo a vedere. Quindi non esclude delle novità? Ma la novità più importante deve esserci sempre il bel gioco, che non è più una novità ma è una consuetudine che lanciano regale a tutti i tifosi, a noi come società e a voi come tifosi. Poi in corso d'opera, ripeto, si potrà vedere qualcos'altro. Grazie.